Brutto incidente, mercoledì 10 novembre, poco prima delle 13.30, in via Valperga a Busano, a scontrarsi un open insignia, GT Coupé e un furgone Ducato. Lo scontro è stato frontale e alquanto violento. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo e Castellamonte e della Croce Bianca del Canavese. Le di soccorso del 118, i vigili del fuoco di Vrea e i carabinieri del nucleo radiomobile di Veneria Reale. L'Oper, dopo l'impatto, ha avuto un principio di incendio subito sedato. Il bilancio è di tre feriti, due di Treviso, che erano a bordo del furgone, e uno di Fabria, che era la guida della vettura. Un occupante del furgone e il conducente della Opel sono stati ritrasportati al CTO, mentre l'altro occupante del furgone è stato trasportato ad Ivrea, da dove verrà poi trasferito il CTO. La dinamica è al valido i carabinieri. Grazie. Grazie.